Cari pellegrini, l'8 luglio del 1921 nasceva John William Money. Chi è John William Money? John William Money è un sessuologo medico di origine neozelandese che poi si trasferì in Nord America al quale si deve la definizione di identità, di identità di genere. E allora in occasione di questa coincidenza temporale voglio leggervi che cosa fu scritto tempo fa sul nostro sito, cioè sul sito del Cammino dei Tre Sentieri. Abbiamo detto che John William Money ha coniato la definizione di identità di genere, ipotizzando che questa, cioè l'identità di genere, potesse essere diversa dall'identità sessuale. Ma leggiamo che cosa capitò nella sua vita. Nel 1967 due gemelli monozigoti canadesi, Brian e Bruce Reimer, appartenenti ad una famiglia di fede ebraica, vennero sottoposti ad un rituale intervento di circoncisione, ma per un incidente il pene di Bruce fu bruciato durante l'operazione. I genitori, non sapendo cosa fare, si rivolsero a Money, medico famoso per le operazioni su bambini ermafroditi, il quale li convince che sarebbe bastato semplicemente crescere Bruce come una bambina, in attesa dei trattamenti ormonali, della plastica e genitali, per risolvere il problema. Per Money si trattava dell'esperimento perfetto, che avrebbe potuto dimostrare ciò di cui era personalmente convinto, ovvero che l'identità di genere non sarebbe in alcun modo legata alla natura biologica e, essendo il prodotto dell'influenza ambientale, potrebbe essere anche modificata. Aveva infatti a disposizione due bambini con l'identico patrimonio genetico e la possibilità di crescere uno dei due come una bambina. Ma le cose andarono diversamente. Dall'incontro con il dottor Money, la vita di Brenda, il nuovo nome di Bruce, e della sua famiglia fu un tragico susseguirsi di depressione, alcolismo, tentativi di suicidio. Brenda, che nulla sapeva dell'incidente, non voleva assolutamente decidersi a comportarsi come una bambina. Con enorme sconforto dei genitori, a 14 anni Brenda decise di non tornare dal dottor Money per la solita visita annuale e di non sottoporsi all'operazione per assumere in modo definitivo le caratteristiche sessuali femminili. Va detto che durante le visite periodiche il dottor Money arrivava a mostrare a Brenda materiale pornografico per insegnarle i comportamenti di genere. A questo punto i genitori le raccontarono la sua storia. Il commento di Brenda fu questo «Per la prima volta ogni cosa ebbe un senso ed io compresi chi e cosa ero». David, il nuovo nome che Brenda si scelse, subì due operazioni di ricostruzione del pene, sposò una donna che aveva tre figli, ma si suicidò nel 2004. L'esperimento, che secondo il dottor Money avrebbe dovuto dimostrare il non legame tra identità di genere e identità sessuale fallì tragicamente. Ecco, questi pellegrini, cari pellegrini, sono i fatti che smentiscono qualsiasi tipo di impostazione ideologica, fra cui anche quella dell'identità di genere, perché l'identità di genere è di fatto una vera e propria ideologia che viene smentita dalla realtà. Bene, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo editoriale, vi saluto sempre caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza.